ciao a tutti io sono sempre jessica benvenuti sul mio canale allora come da titolo oggi parlo di una tematica molto particolare a me molto cara di un genere letterario che non è altamente un genere ma è una preferenza diciamo di di lettura molto spesso vengo anche criticata per questa cosa però non mi interessa vorrebbe essere questa una serie che riguarda proprio i generi letterari un po atipici un po particolari come in questo caso mi interessa molto mi preme molto parlare del dolore ovvero il dolore nei libri io oggi ve ne mostro cinque ma ce ne sarebbero altri quindi se piace questa tipologia magari potrei portarvi altri video a riguardo fatemi sempre sapere nei commenti ok mi fa mi fa piacere allora il tutto nasce da dopo aver terminato un libro che mi ha devastata qualche giorno fa ho terminato una lettura che mi ha completamente stravolto il pomeriggio diciamo stravolta la giornata perché è stato un libro veramente molto molto doloroso però ci tengo tanto ad aprire una parentesi il dolore cioè libri nel quale nel loro libri dove nel loro interno letture che trattano di storie dolorose di vita vita la vita come sappiamo tutti è segnata da malattia potrebbe essere segnata da malattia da delusioni d'amore da anche quello è dolore ok perché è come un lutto no quindi da malattie lutti lutti familiari in questo caso vi porto cinque titoli devastanti in questo caso che mi hanno lacerata completamente ripeto complice un titolo che ho terminato proprio di cui ho terminato la lettura qualche qualche giorno fa io apro mille parentesi ma ci tengo particolarmente a me piacciono questo piace questo genere di storia mi piacciono libri dolorosi non perché abbia piacere avessi piacere nel leggere libri di storie di persone che soffrono perché godo nel leggere di persone che hanno malattie che muoiono o che mi fa felice questa cosa no perché mi arricchiscono io che io che a mia volta una malattia degenerativa mi piace leggere di persone che ne sanno più di me hanno sofferto soffrono più di me hanno avuto un lutto magari più grande hanno avuto una sofferenza maggiore alla mia ma che si sono rimboccate le maniche e ce l'hanno fatta ci sono riuscite a superare quel momento sono letture che a me personalmente arricchiscono in questo senso non che mi fanno piacere mi fanno ridere ecco assolutamente no pure ci godo in questa cosa ci tengo a precisare aprire appunto questa enorme parentesi che io vengo sempre puntualmente criticata quando dico a questo libro è bellissimo che leggono la trama è una tragedia assoluta come fa piace come fa a piacere i libri del genere ma è così allora vi dico ci sono dei libri di cui già vi ho parlato però ho visto che sono entrate personcine nuove nel mio canale magari non mi conoscono è che si mettono a vedere tutti i miei video passati per cui non sanno magari quale titolo può uscire da questo video magari ecco e magari potrei anche dare spunti per titoli nuovi e diversi chi già li conosce me li sente riparlarne oppure chiude il video cioè ci sono tante cose da poter fare parto direttamente dal dal titolo che mi ha portato ad accendere la fotocamera e mi ha dato l'idea l'input per parlarvi per fare questo video sto parlando di anna becker il libro in questione miracoli edito atlantide un'uscita di ormai tre anni fa io l'ho voluto fortemente proprio l'anno in cui è uscito me l'ha regalato è stato il primo libro che mi ha regalato mia cognata l'avevo messo lì e mai più mai più sfogliato mai più guardato fino a che dato che stavo aspettando sto aspettando l'arrivo di un libro che bramo che non vedo l'ora di leggere dico ma è relativamente breve diamogli una una possibilità iniziamolo l'avessi mai fatto non perché è un libro brutto questo è un libro bellissimo solo che forse ho sbagliato il periodo appunto in cui ci sono approcciata perché di una tristezza infinita si parla innanzitutto una storia familiare è una storia familiare poi divisa in diversi anni perché si parte dal 1950 fino arrivare al 2000 al 2017 18 se non erro la protagonista è emily una ragazza molto giovane che ci racconta la sua vita la sua famiglia partendo dai nonni parte dalla vita dei nonni da quando sono conosciuti da quando sono innamorati e e via e via dicendo qual è la parte triste direte voi la parte triste è che suo fratello joe di due anni più grande di lei quindi lui 25 anni lei 23 lui scopre di avere una malattia terminale non entro ovviamente nello specifico scopre di avere una malattia terminale da lì lei inizia a farsi delle domande a porsi delle domande e anche sulla sua vita personale lei che si sta per laureare lei che convive con il suo compagno da ormai diversi anni si comincia a porre tante domande diverse domande ecco appunto sulla sua vita su quello che sarà e ovviamente lei innamorata di suo fratello lei ha un affetto viscerale per per suo fratello lei che è sempre stata quella più forte di lui quella più tenace quella che l'ha sempre dovuta aiutare si trova anche in questo caso a dover essere di supporto e sostegno sia suo fratello che alla sua famiglia interessante come ha descritto poi la la vita dei suoi nonni perché parte centrale anche è il discorso della di un'altra generazione di una famiglia completamente diversa da quella che è la sua attuale dei suoi genitori bello un libro bello emozionante emozionante toccante perché doloroso potete immaginarlo da voi viene descritto tutto quello che fa giù quindi il momento della terapia il momento ogni passo diciamo della terapia della terapia e di tutte le cure di quello che lui dovrà affrontare potete bene immaginare che è un libro molto doloroso perché ve ne sto parlando perché a me ha dato tanto in un momento della mia vita un po particolare non entro nello specifico mi ha aiutato mi ha aiutato a capire jessica fermati forse c'è di peggio nella vita forse c'è qualcosa di peggio molte volte ce ne dimentichiamo parliamoci chiaro molte volte pensiamo solo a noi stessi ai problemi che abbiamo noi non pensiamo che esiste qualcosa di peggio quindi questo mi ha aiutato in questo in tal senso edizione atlantide costa 20 sulle 20 euro mia cognata giustamente ha tolto ha cancellato il prezzo ma mi sembra sulle 20 euro se siete curiosi prendetelo ma con cautela perché è veramente molto 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 doloroso io ho iniziato la mia fase dei libri dolorosi grazie ad un libro letto ormai cinque anni fa ma che è sempre qui nel mio cuore ed è uno dei libri più belli che ho letto nella mia vita lo so adesso stoppa e scrivi nei commenti qual è il titolo perché sicuramente già lo sai se mi conosci da un po se mi segui se segui il mio canale io sono di questa autrice e di questo libro team ovviamente faccio parte di coloro che l'hanno amato e perché ci sono due fazioni quelle che l'hanno odiato che lo detestano e quelli che lo amano alla follia io faccio parte di quelli che lo hanno amato alla follia e quelle che hanno un po aperto la mia strada alla strada alla lettura per quanto mi riguarda dei libri di questo genere di questo tipo sto parlando di anaghiara una vita come tante lo so questo libro l'avete visto ormai lungo e largo da tutte le parti letto in tutte le salse parlato in tutte le salse nel bene e nel male detto cose belle cose più cose brutte negative che cose positive me ne rendo conto io l'ho amato l'ho amato perché giud giud come anche scrissi nella nella mia recensione è parte di me la sofferenza tutto quello che ha passato giud è che il protagonista del del romanzo se non avete letto cosa ci c'è veramente ma cosa ci state a fare qui sul mio canale se ancora non avete letto non avete come tante cioè io dico io dico valetto è un libro assolutamente da leggere è un mattone che si divora a sprazzi perché vuole il suo tempo si divora ma vuole il suo tempo ho impiegato una settimana per leggerlo e passati cinque anni ancora non l'ho dimenticato mi ricordo tutto del libro tant'è lavoro è di leggere ma io non ricordo tutto quindi forse è bene aspettare un po aspettare ancora un altro po per rileggerlo e per capire se a distanza di anni mi darà mi potrebbe dare le stesse vibes le stesse emozioni che mi ha dato quando ho letto la prima volta la vita di giud che è appunto il nostro protagonista è una vita terribile una vita fatta di dolore sofferenza ma anche di gioie perché credetemi giud non ha non ha vissuto solo una vita dolorosa c'è stato un momento seppur breve della sua vita in cui è stato felice e la storia è molto semplice in realtà degli amici si ritrovano dopo anni ma in realtà si conoscono da sempre hanno una vita meravigliosa hanno avuto una vita meravigliosa con successi si incontrano e si parlano si si raccontano e uno di questi amici che è giud lui è il più triste è il più cupo è il più è quello che ha sofferto di più non vi posso dire tanto perché c'è tanta tanta carne al fuoco in questo romanzo il finale è devastante il finale vi prende il cuore ve lo spezza ve lo ve lo riduce in frantumi e difficilmente poi si riesce a risanare a ricucire a rimettere a posto perché quello che vi dà questo libro è un qualcosa di di magnifico per quanto mi riguarda può tanto dolore essere descritto in un modo così meraviglioso così può un libro lasciarti così tanto doloroso lasciarti tanto lasciarti scusatemi il gioco di parole lasciarti tante cose nel tuo cuore sì sì perché qui percepisci come ha saputo descrivere la sofferenza yana yana chiara è un qualcosa di meraviglioso di emozionante questo libro valetto per capire cosa significa veramente soffrire qual è la vera sofferenza jude ne ha passate tanto nella sua vita ha subito di tutto tanti dicono anche troppo per una persona sola non è così e ho conosciuto nella mia vita ho avuto parenti nella mia vita che hanno sofferto come ha sofferto lui ve lo posso assicurare e mi trema la voce al suo pensiero di rincontrare jude rincontrare la sua vita e tutto il suo vissuto valetto basta c'è 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 poco c'è poco da fare quanto ti dà questo libro in termini di sofferenza ma anche di voglia di vivere perché il finale ti trasmette voglia di vivere soprattutto quindi quando si hanno periodi decisamente no credo che ecco successivamente al una vita come tante io mi sono incapulita per cercare assiduamente un libro che purtroppo è fuori catalogo ma se vi mettete come me di punta sono sicura che lo troverete anche nei mercatini perché so ad esempio di a dice cava che riuscite a trovarlo in un in un mercatino sto parlando di carnival love di katrin dun per elliot questo libro purtroppo è fuori catalogo ma ripeto se siete tenaci veramente tenaci credo che riuscirete a recuperarlo ma di cosa parla carnival love carnival love non c'entra nulla con la copertina con un'immagine di di copertina carnival love non è non è altro che un circo è un circo composto da una famiglia di scellerati una coppia scellerata che crede che il gli spettacoli potrebbero possano andare meglio andare bene se fatti realizzati da persone con problemi fisici con con disabilità disabilità fisiche di disabilità visive di disabilità motorie disabilità psichiche quindi cosa fanno useranno ogni mezzo possibile prenderanno le peggiori cose non vi dico che cosa ovviamente si faranno delle cose veramente orribili oscene pur di mettere al mondo figli malati bambini ma tanto che nel momento in cui la coppia protagonista di quel protagonista in parte di questo di questo romanzo quando metterà al mondo un figlio sano non lo vorrà non lo vuole i figli sani non li vogliono perché secondo loro non danno spettacolo non fanno spettacolo quindi metteranno al mondo bambini che hanno bisogno necessari da un'istere a rotelle bambini con la testa mal formata io non aggiungo altro perché il libro in parte un po crudo ma in parte racconta tantissimo anche della vita dei disabili metterà al mondo anche una una bambina affetta da nanismo ed è lei sarà lei la protagonista reale di questo romanzo perché lei stessa metterà al mondo una figlia sana non vi dico con chi non vi dico qual è la situazione non vi dico nient'altro in questo romanzo l'avete capito si parla più che altro di disabilità ma se ne parla in un modo veramente duro crudo realistico che è quello che è la cosa più importante perché direte voi è doloroso non posso dirvelo perché bisogna leggere il libro ma il dolore in questo caso è un dolore palpabile un dolore che ho sentito tramite appunto la sofferenza della disabilità essendo disabile quindi veramente ho empatizzato tantissimo con la protagonista protagonista della quale vi innamorerete perché di una dolcezza infinita lei che è teneramente innamorata del fratello malato anche lui ovviamente i fratelli sono tutti tutti disabili e quindi sarà un amore ovviamente un amore malato no verso anche questo questo fratello accadranno nel corso della lettura del romanzo disastri eh tragedie che non vi sto ovviamente ad elencare la parte finale è un qualcosa di disturbante e veramente atroce però il dolore in questo il dolore in questo caso è un dolore eh necessario necessario per far capire almeno ovviamente sempre per quanto mi riguarda quello che ehm quello che significa anche eh in questo caso nel caso specifico appunto della disabilità appunto il dover combattere con una con una disabilità quanto l'amore di una madre eh può fare che lei sia disabile o meno l'amore di una madre l'amore quando si è madri eh quello che si può fare per i propri figli è qualcosa di di grandissimo e noi lo vedremo appunto leggendo ovviamente andando avanti il libro un altro libro parlo sempre in ordine di lettura perché quello è stato uno adesso vi dico qual è stato il successivo molto molto doloroso di una motrice secondo me pazzesca e dopo di questo non ha scritto più nient'altro di simile secondo me tra l'altro sono in attesa della sua prossima uscita e non sarà così già dallo immagino però sono curiosa ovviamente di leggerla e di scoprire cos'altro ha combinato perché dopo bucaneve eh dicendo bucaneve forse avete capito l'autrice di qui stop per parlarvi e c'è stata una fortissima delusione per quanto riguarda l'autrice ma questo di di cui stop per parlarvi ha superato veramente ogni aspettativa sto parlando di ministra d'acosta tutto il blu del cielo per i soli è un bel mattone ma questo vi devo dire ragazzi miei eh supera veramente ogni fattore di di dolorosità anche qua si parla di una malattia eh mi spiace che il video sia sempre un po' incentrato su questo ma se avete cliccato per guardarlo eh avete visto che si parla di dolore e quindi quando c'è il dolore eh ci sono queste tematiche all'interno dei libri io ne parlo eh ovviamente è così se la cosa vi disturba ovviamente si può benissimo togliere il togliere il video non c'è problema insomma si passa al prossimo però io scrivo sempre di quello di cui parlo nel titolo quindi se avete cliccato evidentemente siete interessati sono tematiche forti anche qua ci troviamo davanti a un giovane uomo che sa che eh ha una malattia eh simile diciamo al all'alzheimer che lo porterà eh al alla morte cosa decide questo lo prende come per lui un vantaggio decide di fare un ultimo viaggio un viaggio e che lo porterà fino alla fine dei suoi giorni quindi un viaggio che lo accompagnerà fino alla fine dei suoi dei suoi giorni ma non lo farà da solo cercherà eh tramite internet una compagna una un'amica amico qualcuno eh che eh ovviamente deve accettare di accompagnarlo e di aiutarlo perché ci saranno momenti lui partirà che già non starà bene quindi ehm si vi 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 può accettare una cosa del genere, eppure c'è stata una ragazza che ha accettato di viaggiare con lui e di accompagnarlo, pur sapendo che durante il viaggio ci saranno momenti no, momenti di smarimento, momenti in cui il ragazzo peggiorerà di salute, devastante, però di una bellezza, di una dolcezza, quello che mi ricordo tanto di questo libro è la dolcezza, la dolcezza con la quale viene descritta una malattia terribile e il finale è meraviglioso, si piangerà anche qui ma in parte di felicità, il perché non ve lo posso dire, Manizia D'Agosta ha una scrittura magnetica, una scrittura perturbante, una scrittura che ti accompagna nonostante il mattone, ma a parte che è scritto grande, meglio grande, Rizzoli ha un fonte veramente meraviglioso, ho detto sempre dei fonte meravigliosi, ma questa è una storia che vi accompagnerà in luoghi magici, perché ci sono dei momenti in cui lui stesso chiederà quasi come se non volesse veramente andare via, non volesse abbandonare la sua vita, fino a che alla fine si rassegna e basta, bellissimo, basta, altrimenti mi ricommuovo nel pensare a questo libro, comunque se avete letto qualcuno di questi titoli ovviamente fatemi sapere nei commenti che ne parliamo e se avete altri titoli simili scrivetemelo perché io sono sempre curiosa poi di conoscere storie nuove. Come in questo caso, sono contentissima perché ho conosciuto Gian Piero Rigosi tramite Ciao Vita, edito Navi di Teseo, se non erro, sì, e anche questo un bel mattone, ma anche questo scritto grande e anche questo, ragazzi miei, sì, divora. Io l'ho ascoltato in audiolibro, ma è bello. Qui siamo su tutt'altra tematica, siamo sulla tematica sempre dolorosissima, ovviamente, tematica riguardante l'eutanasia, ma in tarda età, nel senso, troviamo due amici che se ne incontrano dopo tanti anni e l'uno scopre della malattia dell'altro, l'altro cosa chiede? Chiede al suo amico di aiutarlo, mi avete capito. Quindi, non si parla solamente di questo, qua c'è anche la vita dell'Italia, la vita, la storia dell'Italia, di quello che è accaduto negli anni bui dell'Italia e riguarda anche dei fatti di cronaca italiani e mi è piaciuto veramente tanto. Qui c'è leggermente, nonostante la tematica forte, c'è leggermente meno dolore rispetto a tutti gli altri. Tra i cinque, ve lo dico, è il meno doloroso. Tra i cinque è il meno doloroso, perché comunque c'è anche al suo interno la descrizione, appunto, dei fatti di cronaca che sono accaduti in Italia in anni passati. Uno bianca e quant'altro, per intenderci. Quindi, diciamo che spazia, per cui non è il focus centrale, ovviamente. Allora, perché l'hai inserito in questo video? Lo inserito in questo video perché c'è una tematica di cui pochi libri trattano, secondo me sbagliato, perché se ne deve parlare, l'esanasia, appunto, è il fine vita. Molto bella e credo che proprio questo dualismo, cioè questo parlare, sì, appunto di questa tematica forte, ma mescolato anche alla vita, alla storia italiana dell'Italia, lo fa essere meno pesante. Ovviamente poi si parlerà anche della vita di entrambi i protagonisti, di questi due amici che si rincontrano dopo tanti anni per un caso. Per cui è anche bello sicuramente questo. Questo, ripeto, tra i cinque è sicuramente quello più doloroso. Meno doloroso, scusatemi. Tra i cinque è sicuramente quello meno doloroso, è una vita di rigosi. Niente, il video è terminato. Io spero, nonostante le tematiche, spero di avervi tenuto compagnia, come voi la fate a me, ogni volta che faccio i video, che giro un video, e nulla. Quindi fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri o se ne avete altri su questa tematica. Chi mi conosce sa che io adoro Pedeligo, da diversi anni ormai, più questa tipologia di libri che altri. Quindi questi drammatici, genere drammatico in generale. Ecco, passatemi un po' il gioco di parole. Vi mando un bacio grandissimo. Fatemi sapere, vi ripeto, ancora nei commenti. Seguitemi, condividete il video, iscrivetevi. Insomma, siate presenti, come sempre. Ciao!